Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Lamber e oggi siamo qui su Amnesia A Machine 4 Peaks Dopo aver completato il primo gioco eccoci qui sul secondo Amnesia una macchina per maiali Come per il primo non so niente di questo gioco Quindi iniziamo subito e controlliamo cosa potremmo scoprire insieme Colui che trasforma se stessi in una bestia si sbarazza del dolore di essere un uomo Dottor Samuel Johnson In che senso? Cioè se ti rendi inumano non hai più il problema di preoccuparti What? Abbiamo iniziato e già sono mega confuso come al solito direi Cosa ho delle finestre tipo? Da qui stiamo vedendo dei fulmini Ho una gabbia non lo so Sembra che sia uno sbarra quel Calmini calmini Ok non erano fulmini di una tempesta ma forse fulmini di una macchina Buon salve Che sta succedendo così all'improvviso? No non mi posso ancora muovere però non sto manco a capire niente Sono in un laboratorio a quanto pare Sembra Quello che sembra essere un laboratorio O qualche sala di motori Oh e basta Basta i papini Che cosa vi hanno fatto i papini? Buongiorno Sono il protagonista Si non so manco chi tu sia Mi c'ero affezionato a Daniel Tu invece non sei Daniel Vero? Non lo sei Hanno aperto una porta Siamo in delle sbarre per davvero? Buon salve Che sta succedendo? Scusi? Perché ero ingabbiato? Bella domanda Perché ero ingabbiato in un'assenza normalissima? Hanno pure chiuso la porta Grazie Qualcuno mi ha Mi sta salvando? Cioè mi ha aperto la gabbia? O mi sta conducendo la dannazione eterna? Amnesia A machine for pigs L'introduzione sembra essere figa Bro? Ti sei ubriacato e ti sei rinchiuso in una gabbia Perché eri troppo fatto? Non ho capito Ah ok mi posso muovere adesso E mi puoi dire niente su quello che è successo qui intorno Chi sei? Cioè qualcosa Non so Sembri messo piuttosto male per ora Ripiati dai Innanzitutto qui c'è un foglietto Leggiamolo 24 giugno 1899 Per evidente in questo messaggio Sto qui nei suoi sogni E vede un tizio con una pelliccia di gioguaro Ed insanguinato Con delle piume Ed è come se c'è fosse qualcosa di vivo Un ratto Che gli rosicchia il cervello Neanche il laudano può curarlo E sente i suoi figli giocare in manzarda Però non prova amore ma terrore Ok vabbè Adesso ci sono i veri comandi Credo molto simili a quelli di The Dark Nations Papà trovaci No aspetta un attimo Promemoria E qui c'avemo un sogno febbrile Mi sveglio da solo in una casa silenziosa La mancanza del suono dei bambini Che giocano è come un sepolcro Scuro e fecondo Che mi invita a scendere Tra la terra argillosa Che non può ospitare nient'altro Che cadaveri Non importa I miei figli mi chiamano E io risponderò Li troverò Va bene bro Quindi andiamo alla ricerca Dei tuoi figli E vediamo nelle varie stanze Poi ha detto che erano in manzarda Quindi dovrei trovare un modo Per salire Eh Eh Vabbè il bagno è già Sono traumi Ma mi scusi Non possiamo iniziare così Tra l'altro l'inventario Non l'ho Non lo posso aprire Ok Vabbè scopriremo tutto Pian piano Spero Ah ecco qui Delle scale per salire Forse da qui posso andare a cercare I miei figlioletti in manzarda Figlioletti Ok si sto arrivando Ma mi sa che siete più che altre illusioni E non E non veri figli Ok Una palla Che sta succedendo Non sto a capire Qui sono Stanno Sembra che sta Stia succedendo qualcosa di strano Ho visto qualcosa muoversi qui vero O almeno mi è sembrato Ma mi sa che io sono pieno di illusioni In questo momento Chiudiamo un attimino E cosa succede qui Bruna tutto ok Ma perché molte Cassetti trall Hanno queste serrature strane E sospetta la cosa Va bene Forse qui sopra C'erano tipo Camere di ospiti Dato che vedo dei letti Ok Forse sono qui dentro Nuovo appunto Aggiutto al tuo diario J I premi M Per consulerti rapidamente Sono particolari e utili Quando rimani bloccato Sì come per il primo gioco Ma dormivano in manzarda Quando erano ancora in fasce Forse è lì che si nascondono adesso Ricordo di aver insistito a riguardo A metà strada fra la mia camera da letto E il mio ufficio Quindi a metà strada Fra la sua camera da letto E il suo ufficio C'è qualcosa per aprire la manzarda Allora la manzarda è qui Ah Ma qui c'è Una scala Va bene Credevo di dover tornare indietro Per trovare qualcosa Ma a quanto pare Dovevo salire qui Sta arrivando un uomo cattivo Non so chi sia l'uomo cattivo E no mi mette di cariglione Ti supplico E non ho manco una fonte di luce In questo momento Si vede davvero poco E posso passare qui sotto E cosa c'è qui Ok Qui c'è una stanza per i bimbi Con un messaggio Dario di Edwin e Enoch 11 ottobre 1899 Papà dice che quest'anno Non festeggeremo il Natale È troppo occupato La data dice di non disturbarlo Che è indaffaratissimo Ok me lo so letto un attimino Allora il loro padre Era molto indaffarato Non li vedeva quasi mai Hanno trovato un uccellino Con un'ala ferita La loro tata L'ha colpito con un mattarello E l'ha ucciso Loro sono andati a seppellirlo Hanno sentito un maiale grugnire E suo padre era furibondo E loro dicono Ma siamo convinti Che avesse pianto di nuovo Perché dovremmo aver pianto Accovacciati control Perché mi stai insegnando Ad accovacciarmi Scusami Sta roba qui Non è per niente bella Eh Ok forse qui c'è una torcia Diversa da quella Il primo gioco Bambini Ho visto i bambini Oddio So davvero loro Continuano ad avere illusioni Ok Qui il gioco mi dice Per accendere Premi F E la luce potrebbe atterrare Attenzioni indesiderate Mannaggia a me Va bene I bambini sono arrivati da qui O almeno la loro illusione E sono andati per di qua Ok Secondo me Mi sa che sono tutte illusioni Sti qui Ah guarda qui C'è un luogo Nascosto Tipo sposto questo E potrei entrare qui Chissà che c'è ancora La meccanica Della sanità mentale Va bene Eh l'avevo capito Che vi state nascondendo Arrivo Bambini Bambini Perché è pieno di queste maschere di maiale Ho capito che il gioco si chiama Una macchina per maiali Ma forse è un po' troppo esagerato E anche nella copertina del gioco Con la maschera Quindi non so se Di potermi fidare Ok Siamo in una nuova zona della casa Tra l'altro non so nemmeno se la torcia abbia Potenza limitata O se posso usarla Finché voglio Comunque controlliamo anche cosa c'è qui dentro Sono tutte varie camere per bambini Perché lasciavate i bambini a giocare in mansarda Va bene La culla piange Si vede che non siamo messi troppo bene Cerchiamo qui da qualche altra parte Tra l'altro Il livello di interazione è molto di meno rispetto al primo gioco Qui posso prendere pochi oggetti Nel primo ne potevo prendere molti di più Tipo già nel primo gioco avrei potuto prendere questi libri Questo vaso Comunque cerchiamo qui intorno Perché mi so che dovremmo trovare qualcosa Magari mi fa interagire con pochi oggetti Solamente perché siamo all'inizio Vediamo sto foglietto 14 febbraio 1899 Allora praticamente qui Noi suppongo Stavamo parlando con un analfabeta Qui dice Cioè lo criticavamo perché sembrava non acculturato E a quanto pare lui sapeva dove erano queste rovine Noi le cercavamo perché a quanto pare aveva una ricchezza straordinaria Anche se a lui dava fastidio che sto zoticone conoscesse le rovine Va bene Non capisco di quale rovine sta parlando Se collegato al primo gioco quelle rovine potrebbero contenere la sfera del male Adesso vediamo Dovremmo scendere di nuovo Si arrivo bambini ma eravate in manzarda e già siete scesi Ma scusatemi Sento rumori strani Ok no era solamente la mia immaginazione Credevo che ci fosse qualcuno che mi stesse inseguendo Sapete come nel primo gioco che c'era una canzone specifica Cioè quando il mostro ci inseguiva credevo fosse una roba simile ma a quanto pare no Sono io che mi drogo Allora bambini cosa c'è qui sotto? Ok stavano registrando una discussione Ok qualcuno è stato mandato qui per fare delle ricerche forse Porco dinci Che è successo? Terremoto Ok mi è caduto un quadro in testa Grazie gioco Vedo che sei sempre molto gentile C'è stato un terremoto Ho successo qualcosa sotto la casa e ancora queste maschere di maiale Va bene Non so perché mi sa che uno delle nemici avrà una di queste maschere Va bene ho aperto qui Sento Un orologio Che sta suonando Chissà che ora è tra l'altro Chissà chi siamo Chissà perché stiamo facendo tutto ciò Ma credo che il gioco mi spiegherà tutto pian piano Come nel primo Ok sta suonando il telefono Buongiorno Come mi hai chiamato scusa Prezioso frutto del cactus dell'aquila What? Ma i sono fatti quelli che mi hanno chiamato Vabbè era uno scherzo telefonico palesemente Già nel 1900 avevo iniziato a farli E qui non puoi nemmeno rintracciare il numero Che schifo Vabbè mi sono insegnato qualcosa a quanto pare Dove un tempo piangevamo la scomparsa di Lily Sotto armi incapaci di uccidere gli angeli E riportarla dai cieli Scruta oltre i dipinti Oswald Dove un tempo la guardavi fare il bagno Cosa? I bambini devono aver scoperto quei luoghi segreti Devono esserci Esserci si rifugiati Quindi ci fu la scomparsa di Lily Che non sappiamo chi sia In una zona sottostante delle armi Incapaci di uccidere gli angeli Quindi credo armi da fuoco Guarda oltre i dipinti Dove un tempo la guardavi fare il bagno Forse Oswald siamo noi E guardavamo Lily fare il bagno attraverso uno dei quadri Quindi mentre si faceva il bagno Quindi forse è nostra moglie Siamo dei pervertiti assoluti? I bambini devono aver scoperto Quello che i segreti Devono esserci si rifugiati Ok quindi qui da qualche parte Ci potrebbe essere Una zona segreta Per continuare Madonna Ho fatto qualcosa Ho fatto qualcosa Muovendo l'arma Ma che bello Cioè l'ho azzeccato subito Senza troppi problemi Comunque controlliamo anche qui 7 novembre 1898 Un po' prima rispetto agli altri messaggi Ok qui dice che lui voleva Voleva un credito dalla banca Ma lei ha rifiutato E inizia ad insultare Qui dice che effettivamente Gli manca la sua metà E piange ogni notte Quando nessuno lo può sentire Poi dicono che Ho sperperato la mia fortuna Che l'investimento in queste macchine Ha rovinato il buon nome Della mia famiglia Quindi ha costruito le macchine Che sono costate tanto E qui dice Cosa volevano che rimanessi Un macellaio di quartiere Lui non A quanto pare era un macellaio Credo noi Oswald E qui dice Se verranno a prendersi la casa Giuro che li ucciderò Li ucciderò tutti Prenderò il mio fucile Il fucile Credo che fosse un indizio Per farmi muovere il fucile Però sto qui Già era pronto a uccidere Decine di persone Prima che gli togliessero la casa Oh no Bambini Basta Basta bambini Vi vengo a prendere Che cosa ho fatto Non lo so Bambini Che cosa Che cosa state facendo In giro per casa Non credo che manco siete Voi i miei veri bambini Ma continuo a credere Voi siete delle illusioni I quadri Sono finti Ci puoi vedere attraverso Quindi mi vuoi dire Che prima Magari mentre ero io Lì a leggere Qualcuno mi Mi ha potuto vedere Oddio mio Ok La situazione si fa Preoccupante Che succede? I disegni Perché ci sono Sti disegni? Sono gli stessi Che c'erano in Just In Comunque Tranne questo Forse Non lo so Molti dei disegni Erano Di Just In E qui c'è Credo il Lo specchio del bagno Va bene anche Che ha fatto Sti disegni Così Così perversi Ok E qui guardavo Mia moglie Fare il bagno Va bene Qui c'è un'altra leva Va bene Va bene Non ho capito Che cosa è servito Anche muovere La leva di prima Però questa qui Ha aperto questa porta Segreta E non so dove siano I miei bambini Comunque Adesso il gioco Prediente mi dice Non c'è bisogno Che controlli ogni porta Perché alcuna Hanno le serrature E c'è di nuovo Quella specie di terremoto O è qualcos'altro Non è un terremoto Ma qualcosa di peggio Non saprei E addirittura Mi indichi le porte Con cui posso interagire Svegliando la casa Delle bambole Lili Beff Lili Mandus Qui si appolti Il 26 settembre 1890 Gli angeli ti piangono In gloria I tuoi denti venduti Per le bambole Dei poveri Come scusa Ok a quanto pare Questo qui è un messaggio Per Lili Che è morta Nel 1890 Credo 10 anni prima Dalla narrazione Di questo periodo Dato che ci sono i diari Del 1899 I suoi denti Sono stati venduti Per Dare bambole Ai poveri Quindi nostra moglie Era una persona Molto caritatevole Che ha deciso di Vendere parti del suo corpo Per aiutare i poveri Va bene Io sto cercando Un pochettino anche Di capire un po La storia del gioco Dato che Bisogna parabrasare Per capirla Viga Ok Il caricamento è finito E siamo in una nuova area Probabilmente questa qui Sarà più pericolosa Della prima La prima era Alquanto tranquilla Per correre Usa maiuscolo Perché me lo stai dicendo Scusi Perché io già mi devo iniziare A preoccupare E qui c'è un altro messaggio Dario di Edwin Ed Enoch 3 ottobre 1899 Credo che Edwin Ed Enoch Siano i nostri figli Siano i nostri figli E infatti Qui dice Papà dice Che non possiamo più Giocare con gli animali A quanto pare I nostri figli Giocavano al nascondino Con Cook Con il cuoco Non lo so E loro padre Gli ha sgriati Perché li stavano nascondendo In una zona Strana Brutta E loro gli dicono Che sentivano i fantasmi Dietro i muri Dietro i quadri Quindi qualcuno Stava guardando Il loro figlio Oppure lì sotto C'erano qualcuno Che veniva torturato Dato che a quanto pare Loro sentivano anche Rumore di catene Già qui Si vede che Noi stavamo nascondendo Qualcosa di molto brutto E il fatto che Non sappiamo niente Forse vuol dire Che noi abbiamo bevuto Il Liquido amnesia Ok Arrivo Illusione di mio figlio Va bene C'è stato un altro Di quei botti Che ha fatto muovere I lampadari Ha fatto cadere Un altro quadro Va bene Non so nemmeno Da che cosa Siano derivati Questi rumori Comunque figlioletti Sto arrivando Ve lo giuro Ok Questa qui Sembra essere Una sala da pranzo Oddio Qualcuno veniva Torturato Come al solito Direi Dai giochi Di amnesia Che sta succedendo Mi scusi Non ho capito Comunque Sembra qualcuno Venisse Essendo ucciso Va bene Va bene Non mi farò domande Guarda Cerchiamo di capire Sempre più cose Perché ancora Qui siamo Immersi nel mistero Non Non capiamo Non stiamo capendo Ancora niente Ok Qui non c'è nessuno Si controlla sempre Meno di avanzare Che io mi cago Qui Tenevamo animali Impagliati Ok Allora Nel messaggio dei bambini Qui diceva Che loro Si stavano per nascondere Dietro all'orso Quindi forse Qui c'è un passaggio segreto Posso muovere l'orso Posso muovere l'orso Sembra Ok Lo muovo di lato E si è aperta una porta Va bene Come hanno fatto i bambini Puoi scoprire tutte ste robe E dopo la festa Mi ha preso Per il braccio Credendomi Ma caro Come hai fatto A passare così rapidamente Alla stanza dei trofei Al bagno degli ospiti Tutti ti credono Un mago Mia cara Lilibef La casa di mio padre Ha molte stanze E la mia Beh Ha le sue stanze segrete Ok quindi a quanto pare Lilibef Stava iniziando a scoprire Che noi avevamo Stanze segrete in giro Va bene Lilibef Ok qui c'è una zona All'esterno Porco due Ho visto i bambini correre E quindi Cosa mi serve Entrare lì dentro Nel Detro all'orso Si continua da qui O da là Boh intanto Controllerei qui dietro Anche se sembra Anche questa qui Una zona molto grande Come all'esterno Qui c'erano zone Piene di macchine Va bene E nient'altro Ok qui sembra Ci fosse uno studio Sento rumori di matita Che scrive È solamente una roba a parte Questa Ma c'è anche una Valvola Ok iniziamola a girare E abbiamo acceso qualcosa Qui intorno Dei passaggi Abbiamo aperto una porta Ok forse adesso Dall'esterno Possiamo provare ad entrare E andare in quella porta Suppongo Salve esterno Sono venuto a farti visita Anche questa volta Magari qui intorno C'è una porta Per entrare Eccola lì Dovrei aprire questo cancello Però In qualche modo Ok iniziamo a cercare Perché mi sa che devo raggiungere Quella porta Suppongo Non credo che il gioco Mi faccia fare Mi faccia girare valvole A caso eh Dove siamo finiti? Queste qui sono tutte belle domande Dato che questa zona Sembra essere enorme Un enorme palazzo Ok un biliardo E qui si va E' pieno Pieno di zone Ah sono tornato Alla Una delle estenze principali Ok Quindi era solamente Un collegamento Questo Andiamo dall'altro lato Per di qua E vediamo cosa posso trovare Ci sono alcune porte Tra l'altro aperte E mettono un botto d'ansia Questa qui è bloccata E qui siamo nel bagno Di prima Sperando che nessuno Mi guardi allo specchio Forse devo cercare qualcosa qui Più che altro in questo messaggio Mi dice Ma caro come è fatta Passare così rapidamente Alla stanza dei trofei Al bagno degli ospiti Quindi forse qui c'è un modo Per raggiungere La stanza dei trofei Il quadro Il quadro Il quadro Quante stanze segrete però Forse quindi questo qui Non era lo stesso Posto di prima Forse si E perché adesso è tutto insanguinato O non è lo stesso posto di prima No non è lo stesso posto di prima E' un altro bagno Ci sono altre gabbie in giro Come quella da dove sono Da dove ho iniziato a giocare E siamo di nuovo qui No è un'altra zona In un altro lato Sto accendendo qualcos'altro Va bene ho acceso qualcos'altro Aprendo forse anche qualcos'altro E magari ho aperto la zona all'esterno Comunque tutto questo sangue non mi piace Vediamo se la mia teoria è Esatta E' pieno di sangue E le luci flickerano Ok spegnimi un attimo la torcia Che cos'è quella merda Che cos'è quella roba che va in giro Qui c'è un altro messaggio Tra l'altro 20 dicembre 1899 Allora qui dice Presto arriverà un ospite Il distinto professor Fluvien Che si doveva sincerare Del benessere psicologico Del nostro protagonista Però non gli andava Che lui venisse Perché secondo lui Doveva spiare Secondo un club Però doveva accettare Per forza Perché altrimenti Sarebbero arrivate tanti Tanti ficcanassi E tanti ladri L'altro qui dice Ora abbiamo delle chiusure Pioresistenti alle finestre E quindi forse Il fatto è che qui sia tutto chiuso Compreso sti lucchetti Mi significa che Il nostro uranonista Ha deciso di chiudere tutto Per evitare che qualcuno Ficcanassasse Vediamo Ho aperto le zone qui Ok si Le ho smosse Quindi adesso qui Si è creato una via unica Devo raggiungere quella porta Però il problema E ritornando a parlare Di quello che avevamo visto prima E cos'era quella roba Sembrava che stesse camminando A quattro zampe E non so veramente Che cosa aspettarmi Ok sembra che la porta Che mi serve sia Questa Però mi stanno a chiamare Il telefono Buon salve Chi è che mi disturba In questo momento No Ma chi sei Ma chi sei Ma chi sei Che mi vuoi aiutare Ok I miei figli Sono stati catturati Intrappolati Devo ritrovarli Quindi questo qui È l'obiettivo del gioco Ritrovare i nostri figli Però sembra Che siano stati portati In luoghi brutti Bro tutto ok Mi sa di no Mi sa di no Non è tutto ok Ok qui abbiamo aperto Le robe con le varie valvole Ok Piangevamo a quanto pare In continuazione Data la mancanza Che provavamo Per nostra moglie Tra l'altro Qui nelle zone del varvole Si sono pure aperte Le porte Ok quindi possiamo Continuare Ok stiamo continuando Ad avere delle visioni Sui nostri figli Che ci indicano Dove andare Per qualche motivo Metallo che si raffredda E si contrae rumorosamente Deve essere quella Strana macchina Di cui parlava Il mio nuovo amico Se i bambini hanno scoperto Questo posto È possibile che siano Avventurati più sotto Entusiasmati per la scoperta Molto bene Pare che il mio percorso Si è segnato Che la discesa Abbi inizio Quanto ora C'è una macchina strana Che è anche collegata Ai bambini Che sono andata Ad esplorarla E adesso noi dobbiamo Scendere per ritrovare I nostri figli Quindi qui c'è Qualcosa che mi porterà A scendere No ma Si è tornati all'esterno Poi è un altro esterno La situazione Si va sempre peggio Che In che zona sono Che qui è chiuso Ma dove sono finito Sento delle campane Ho visto qualcosa Si muoveva per di là E ho sentito Un grugnito di maiale Fortissimo Bro Sai Sai dirmi che cos'è Tu sai niente Io non so niente di niente Adesso il gioco si chiama A machine for pigs Una macchina per Maiali Sappiamo che qui intorno Ci sia una macchina Quindi supponiamo Anche sia per maiali Adesso ci sono maiali assassini Ho capito Sono geneticamente modificati Per assassinarmi Qualcosa del genere Non so Comunque cosa devo fare Qui intorno Ah Ah ecco cosa devo fare Altre maschere di maiale Va bene Hanno trovato un uovo di pietra What E qui si inizia a scendere Andiamo nei semi interrati Sempre più profondi A quanto pare comunque In questo gioco Non avremo un inventario Ed è caduta la scala Non avremo un inventario Quindi non ci dovremmo Nemmeno preoccupare Dell'olio Del De tutto il resto Potremmo utilizzare Sempre la nostra torcia A meno che in una sezione Non me la tolgo E la devo andare a recuperare Contro le acque che salgono Piantate le unghie Invasi da fiori Lungo il fiume Quando è buio Il sole potrà farle dischiudere Tutto il mondo È un uovo Lui crede Noi coltiveremo mani Adesso Va bene dirmi messaggi criptici Però Almeno spiegami No invece no Invece no Tu devi star zitto E subisci Paparabarabam Dove son finito In zone brutte Credo che da qui in poi Potremmo trovare nemici Adesso siamo finiti In una zona senza ritorno Senza salvezza E nelle profondità Di questa magione Però il fatto di non avere Un inventario Significa che ci saranno Molti meno puzzle E che probabilmente questo gioco Si concentrano di più Sull'esplorazione E sulla scoperta 3 giugno 1899 A quanto pare Noi avevamo una fobia Per la sporcizia A causa di un tempio Esplorato nella giungla Forse lo stesso luogo Che siamo andati a esplorare Con il tizio di prima È come se quegli spazi Incontaminati Così liberi Dalla lordura umana Mi fossero rimasti Nell'anima Rendendomi vulnerabile A ciò che trovo qui Quindi in realtà Secondo lui La giungla era pulita Fra virgolette Forse in senso Non letterale È la paura A tenere ciascuno Al proprio posto È la paura Della carne Della rovina Della carne È la paura Più grande In assoluto Sono disgustato Rovinato Ma costruirò Una macchina Per arginare Questa sciagura E quadrarci tutti Un nuovo secolo E alle porte In che senso Voleva Voleva fare In modo Di togliere Qualche sorta Di pensiero Agli umani Ho l'umaga E ci chiami tua madre Che è morta Ah no Scusa Allora Qui ci stanno chiamando Un'altra volta Stiamo in una zona Davvero oscura Non si vede Una ceppa di niente Ah ok Madonna Ok quindi C'è una zona Piena di acqua Putrida Che in qualche modo Ha intrappolato I miei figli Forse in una zona Chiusa Non so E dobbiamo andare A salvarli Togliendo quest'acqua Aiutando sto tizio Che mi sta continuando A parlare Ma sapete una cosa Ragazzi Mi sa che potremmo Scoprire molto più cose Su di noi E sui nostri figli Nel prossimo episodio Quindi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete like Iscrivetevi Fatemi sapere Come vi sta sembrando Il gioco per ora E noi ci vedremo Al prossimo video Ciao ragazzi Buongiorno Buongiorno Grazie.